C'era due film Mers Miracle Giovanni, perché dopo n'era 3 d'orso con la buccia di un perro, è ciò, è ciò, è ciò, giochi. E' un'exposizione, non so, è ciò, è ciò, è ciò. Non so, è ciò, è ciò, è ciò, è ciò, è ciò, è ciò. questo è il carro qua non è tutto più no, l'alba ne costa no, l'alba ne costa Gli ha fai? Non c'è quello che fai. Non fai, non zampo niente. Ti ritrovi a parte da piscina, no? Ho piscina, ti com' non fai che... Ti ho ancora fai? Eh? Dov'è? Buongiorno. 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 C'è il mio? Troppo. Poi buongiorno. Buongiorno, buongiorno? Buongiorno. Buongiorno. non è ancora capire, non è ancora trovato la sponda e guarda questo, non è ancora capire non è ancora capire non è ancora capire non è ancora capire No, 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 no. Grazie. Grazie.